Vittoria per 5-0 3-0 nella prima frazione e 2-0 nella seconda dei rappresentanti canalesani il confronto di calcio a scopo amichevole che si è svolto nel pomeriggio di sabato 24 settembre allo stadio Pistoni di Vrea Una giornata da tempo incerto ha fatto da sfondo un evento che è stato allestito con grande attenzione dall'associazione Noi Ci Siamo Onlus che ha deciso di organizzare questa uscita al fine di dare un sostegno alle persone meno abbienti Nell'occasione della gara ha visto protagonista la squadra azzurra degli artisti TV che è stata accompagnata dalla madrina Chiara Squaglia pronta ad dare spettacolo in campo e fuori accettando con piacere l'invito dello staff che ha realizzato la giornata ma poi l'ha visto coinvolta anche l'us di Vrea e il comune della città dalle Rosse Torri che ha dato il patrocinio E' proprio chiara, a volto noto di striscia notizie il sindaco poridiese Stefano Sertoli sono state chiamate a dare il calcio d'inizio del match che è stato tra l'altro anche commentato dai corrispondenti di Poradio Nel complesso un altro bel messaggio lanciato dal territorio canavesano che è sempre pronta a dare un aiuto concreto a coloro che sono in difficoltà un altro bel messaggio Grazie a tutti Grazie a tutti